Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, ragazzi vi sto aspettando, sto aspettando anche Fede che oggi parliamo di una cosa importante, eccolo qua, Federico sta arrivando. Facciamo un bilancio di questo anno difficilissimo, di questo 2020 che ci ha portato tanti cambiamenti, eccolo qua Fede. Ciao. Ciao cara. Allora facciamo prima la prova tecnica perché mi sembra sempre che mi ha portato l'internet di altri. No, non ci voglio portare, tutto va benissimo. Oh guarda, ci sono già tutti i nostri, Angelica, Daniel, vi vedo tutti, ormai sono riconosce. Siamo pronti per fare una bella chiacchierata, Fede. Aspetta, mi devo un attimo concentrare perché io vedo, quando mi guardo nel monitor, mi vedo che gli attarmi giù, super brosta, ricacca, mi ne attocio e vi dite perché? Diciamo, ti sento meglio, però sì, un pochino sì, l'immagine va lenta, un pochettino sì, è vero. Un po' ritardato, eh vabbè, speriamo che non abbia effetto sul cervello questo, eh? Speriamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, ci siamo. Ciao, ciao a tutti, ciao Kat, ciao Angelina, e vabbè, mi abbraccio e vi rimane nel tuo studio di attarmi giù, si dice, che spara io se mi attarmi giù. Ecco, così cominciamo subito, Fede, con quell'idea che nel 2020, da ora in poi, da ora in poi, è importante avere una connessione stabile, un internet che funziona benissimo, hai ragione? Sì, sì, ciao Masha, sì, sono assolutamente d'accordo, però veramente non so che fare, oppure devo cambiare il telefono, probabilmente anche questo, no? Guarda, non mi muovo, sto fermo, così non dà effetto brutto. Allora, 2020, Uragano Digitali, ecco picco. Sicuramente, ecco sì. Scusi, io non posso capire, non posso capire, come è passato un anno, e stocco di nuovo, ecco, 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 ecco. E' vero, è una realtà nuova proprio, ecco, come sai, qualche giorno fa avevo letto un articolo, no? C'era scritto di quello slogan molto diffuso in Italia, no? In marzo, aprile, che c'era scritto, tipo, torneremo alla normalità. Ecco, ma com'è questa normalità ormai adesso dopo questa pandemia, il coronavirus, eccetera? Cioè, la normalità, ma com'è questa normalità, ecco? E' una bella domanda. Ma guarda, io parto sempre dalla parola normale, che significa niente di male, no? Bravo, niente di male, comunque. Qui dice Vladimir, ti piace l'inverno? Mi piace, mi piace, mi piace. L'inverno russo, ti piace. Ciao Tania. Sì, certo, certo. Attrezzate, te la gluppa, subito, grazie, te lieto. Però, cosa ti voglio dire, normalità, a me non piaceva la normalità di prima. Ah sì, ma l'hai capito solo adesso o l'avevi capito ancora prima del Covid? Senti, c'era qualcosa che non mi piaceva, per esempio, l'absolutna azustio svabodno da vremio. Ecco, ecco. E non c'era qualcosa di svabodno da vremio. E non c'era qualcosa di svabodno da vremio. E non c'era qualcosa di svabodno da vremio. E' un problema di molti. Io non c'era, che questo ha avuto a tutti, ma io non posso trovare il tempo per la vittima. precedente. Oggi... Beh, c'è qualche cosa. Я подумал об этом, что мы все эти годы подумали, что медицина нам спасет всегда. Да, медицина нас спасет. Сколько раз каждый из нас не задумался, допустим, чуть-чуть болит голова, чуть-чуть насморк и что делать? Принимаю какую-то таблетку и пойду на работу. Да, да. Но медицина работает лучше, чем молитва. А сейчас мы стали задуматься, ну слушай, может быть, эти таблетки на самом деле просто врали нас, они просто обманули наши... А молитва работает все-таки лучше, чем таблетки, да? Ну знаешь, хотя бы с молитвы выходит как сказать мы станем менее индивидуалисты, да? Таблетка тебе поможет к своим эгоизмам таблетки, да? и мы не сможем сказать это, но мы можем сказать forse oggi siamo ciao ciao forse oggi siamo più un gruppo oggi ci preoccupiamo per gli altri ma sicuramente un po' di più diciamo rispetto a quello che c'era prima questo sì eh sì assolutamente c'è un po' di rispetto anche verso gli altri visto che ti ricordi no? Prima cioè le mascherine diciamo così esistevano sempre esistevano sempre diverse malattie no? Magari anche ecco qualche virus in giro no? Però nessuno portava la mascherina perché così non eravamo così rispettosi nei confronti degli altri invece adesso comunque vedere una persona con la mascherina è diventata la nostra normalità no? senza la mascherina quasi quasi che ci guardano male quindi c'è un po' di rispetto verso gli altri lo spero comunque devo dire sì devo dire sì anche perché per esempio la mascherina è diventata la mascherina la mascherina è diventata la mascherina io sento un po' di rispetto ascolta Fede ma se se dovessi individuare non so le parole le parole chiavi di quest'anno per te quali sarebbero queste parole? ma guarda intanto la piattaforma fantastica che ci aiuta a lavorare non certo un certo Zoom esatto Zoom Zoom sicuramente ha salvato il nostro lavoro possiamo dirlo sì sì è vero quindi se la tecnologia è un tema di conversazione posso dire che Zoom ha salvato l'umanità Zoom ci ha salvati sicuramente sì sì ci ha salvato dall'isolamento anche pensare che noi siamo sempre in una stanza знаешь come интересно e un'altra mi assai e 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 che E poi torni molto velocemente a casa però fai il bottone rosso, ti sconnetti e stai a posto, sei già a casa, tornato velocemente. In Italia, in Italia, ma anche in Russia, io conosco qualche piccolo paesino anche in Siberia, piccola città e amano questa vita semplice, più tranquilla, meno caotica, anche in Svezia dove ho vissuto io, la realtà era quella, io ho vissuto a Ostersund, bellissima città in Svezia nel nord e la vita è tranquilla, il contatto con la natura, l'inverno vero che piace anche a voi, le notti bianche, oggi tu praticamente sei vicinissimo al lavoro, perché tu entri nel cabinetto, durante la pausa torni a casa, 15 minuti per esempio, ti fai un caffè, ti mangi un biscotto e torni a lavorare. E' certo, e sei già al lavoro, sì sì. Sì. Poi ecco, siccome, certo, magari io sono un po' più vista, però... Ascolta Fede, ma esiste già il verbo zoomare o qualcosa del genere in italiano? Il verbo zoomare, il verbo zoomare c'è sempre stato e significava ingrandire. In grandire, sì, ma nel senso, come no, come whatsappare, non so, skypare, adesso che c'è zoom, che ci ha salvati, esiste anche questo verbo o non so. Ma guarda, in realtà possiamo dire che in italiano si possono inventare tutti i verbi, perché basta... Non so, è un verbo, è un verbo, è un verbo poi, è un verbo, è un verbo, io mi piace quello che spiega... Senti, mi piace il vostro glagol, non so, no, non so, in realtà il tuo glagol è molto piaciuto. Non so, ma non so, ma questo glagol è molto piaciuto per questo glagol. Piace, no, in realtà, si può appare tutto il suo significato, per questo glagol è molto piaciuto. No, in realtà, in realtà, in realtà, è molto caro, molto piaciuto. Sì, 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 assolutamente. Quindi no, si può dire tutto in italiano, si può dire tutto e anche la lingua individualista, cioè sai che io avevo ascoltato un'intervista a Pierpaolo Pasolini, no? E allora spiegli, tipo, come il vostro credo, qual è il più vero l'Italia in Italia, in quale regione, in quale città, in quale città le città meglio. Il suo risultato è molto interessante, perché bisogna, prima, rispondere a quanto riguarda l'italiano in nostro paese, e ciò 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 ciò. Ma, ovviamente, hai sicurato, che dicono le persone che dicono le scelte, ma c'era un momento interessante, perché se stava dicendo la lingua economica e il centro economica è Milano, la lingua è una tecnologia, una tecnologia che usiamo per comunicare. E certo, hai ragione Fede. Comunque Instagram è una parola del 2020, secondo me è esploso. Certo, hai ragione, perché sono apparsi molti questi incontri, possiamo dire così. Infatti ci sono molti corsi, corsi online e anche Instagram ha fatto uscire online molte persone, molti specialisti in diversi settori, no, che prima non erano conosciuti, adesso infatti Instagram ci permette di comunicare, di conoscere altra gente e scoprire le cose nuove. Quindi è fantastico sicuramente, è una cosa decisamente positiva. Sì, guarda, ora, конечно, is-за me, тут il nostro прямore effetto tornazzi, ma, se ti pensi, è molto bello, che si puoi iniziare a realizzare qualcosa di nulla. La verità, io ti parlo, è davvero, è davvero super... e mi abisca, che quando n'è, io spravo con questa comissione. Sì, sai, io volevo dire un'internetta, ho una sorta di un'internet, che mi sembrava che per l'Italia, per l'Italia, questa pandemia anche ha показato, che in Italia molto bene funziona internet, perché ho visto i miei amici su Facebook, sia gli amici italiani sia quelli russi e tutti scrivono adesso dobbiamo attrezzarci perché la prima cosa che deve essere perfetta è internet perché se no non possiamo né lavorare né studiare ci sono due bambini che vanno a scuola che hanno la didattica a distanza devono essere connessi il marito che sta a casa lavora da casa tutti connessi e internet che in Italia non va cioè non ce la fa proprio beh guarda questo è ancora un momento questa pandemia показò tutte le scuole di ogni come dire di una strana non solo l'Italia che prendono le decisioni per tutto il mondo e assolutamente il problema è stato un problema l'infrastruttura è stato un problema 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 e adesso infatti abbiamo parlato è stato un problema è stato un problema è stato un problema gli italiani perché lo so che a Bergamo la situazione era molto complicata davvero che non so se ti ricordi io a scuola con i ragazzi noi dovevamo andare a fare un scambio culturale proprio a Bergamo e purtroppo no davvero no davvero quest'anno sì non lo sai non ti avevo raccontato noi dovevamo andare a Bergamo in marzo dovevamo partire il 18 marzo avevamo tutto i biglietti ma tutto 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 doveva essere uno scambio culturale con un liceo di Bergamo e praticamente quindi era tutto già pronto ma non non abbiamo la possibilità di andare ma infatti ma infatti ti dico ecco se tu mi dici un'altra cosa importante del 2020 la rinuncia la rinuncia la rinuncia è vero perché adesso non esce davo passare mi credo 20 anni non andiamo a scuola tra le vostre vizioni come vizioni ma tutti mi chiedono non mi piace Rina perciò dobbiamo essere ottimi sempre però ci sceglie dobbiamo pulirci quest'anno tra poco arriviamo nel 2021 quindi vedi tutta questa cosa come la purificazione saremo puliti ma sei obbligato sei obbligato perché ti posso dire una cosa ti posso dire una cosa никто ne atrizzat da никто ne atrizzat ma sei obbligato ma sei obbligato che ci sono qui. Dopo, diciamo, tutto questo, tutto questo, dopo settembre, vi faccio un po' di più, come in Meksi, o in Bolivia. In Italia, io vado in Italia. Io ti parlo, come in più, in questo anno, mi sono arrivato a mettero il corpo, Sì, hai ragione, è stato proprio così, abbiamo dovuto accettare la realtà, cioè stai qui dove stai e non puoi andare da nessun'altra parte, quindi è stato il momento delle rinunce grosse per molti. Posso fare un esempio, anche magari Masha che molto spesso ci segue su Tiramisu, lei viaggiava moltissimo, quest'anno io invece metto sempre il like a tutte le foto che fa per la città, quindi fa un viaggio dentro la città ogni giorno, perché poi la nostra città è bellissima. Certo, però da questa parte abbiamo imparato un po' a valorizzare quello che abbiamo, anche la nostra città è bella, anche il nostro paese è bellissimo, è così grande, è fantastico, quindi possiamo spostarci anche lì dentro quello che abbiamo noi, quindi ci sono anche momenti positivi. Ecco, Masha, vedi, ha capito che stai parlando di lei. Certo, ma ti vuol dire, anche una altra cosa, хочу avverserci a tema drenoglio tra l'Italia e la Russia. che ci sono i nostri amici, ci sono i nostri amici, in termini politici. Io non ho parlato di обычarie, perché la città l'Italia e la città è senza politica. Questo mi piace, perché sempre è sempre una differenza, perché la città l'Italia ha votato per la città della città della città della città della città della città. Ma Russia capisce che non è noi che prendiamo questo decisione. E non è bene, come come, come come ragazzi, che ci sono sempre aiutati, se sono in biede. E questo mi piace, mi è stato molto trattato, perché ho visto che, come Germania non vendesse a fare le masche, sì, avevo sentito, sì, questa cosa, sì, infatti c'era questa storia con le mascherine, che mancavano. E io credo che questa è una idea di nazismo, i nostri persone non costano più, che i vostri. Io, ovviamente, molto vero, come ogni italiano, non prendete me serio, non è nessun caso, ma credo che è stato bello. per esempio la Russia mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto in ultimo anno sono felice che sei in Russia e si è che mi ha detto che mi ha detto qui dice Volo dice Ennio Morricone Paolo Rossi ma molte persone è stato infatti Paolo Rossi è stato il Moeghiroia ah si e si perché io ero un bambino un bambino quando lui ha vinto la Coppa del Mondo e poi io gli ho detto ah si perché lui ero dei mondiali dell'82 o qualcosa del genere dell'82 e io e io posso dire e io 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 qui ha fatto andare via molte persone importanti se ne sono andate le stelle di questo mondo però e io ci ha fatto vedere ci ha fatto vedere diciamo con più importanza si perché ti ho detto guarda io ma 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 out ma ma adivano. Kupili одежду, quelle vi radili, e poi un masco. Scusi, io un pochonante Giorgio Armani, non perché solo il suo odio, ma io lo abbiano come un personaggio. Mi credo, è un ottimo esempio per tutti gli italiani. Il, ovviamente, è un modellatore, ma, guarda, c'è un Instagram, i suoi strumenti, i suoi spettacolo, i suoi spettacolo, la mascherina semplici. Sì. Dice, per voi anche è difficile, perché ci sono molto che ci sono stati in un'acqua, tutto stesso tempo, poi c'è la masca, e la masca, la masca, la gubbani per farlo, ovviamente, è un vero. A per noi, ragazzi, non ho capito, che mi non vedo. Ah, grazie a questo, mi chiedono anche i documenti, quando ho acquistato al l'alcogol. Tu racconti la storia, che ti senti molto potevano, che non ti credo, che ti sono già 18 anni, Scusi, Fede, sai cosa mi è venuta in mente, perché c'erano anche tanti scherzi, perché quando è successa tutta questa cosa... La mucchina è il disinfettante, no? Sì, sai anche perché è molto famosa? Perché? Perché la mucchina prima veniva utilizzata solo nelle sale operatori, talk of balnits, quindi era famosissima come il disinfettante più igienico d'Italia, tutti la nominavano, era quasi un modo di dire tipo mi lavo con la mucchina per disinfettarmi. Evidentemente prima le da Slovna, i sasdali e tullini sono molto glamourne, no? Sì, però lo so che in Italia mancava molto la mucchina per dire che i negozi, no? I disinfettanti non ce li avevano e poi c'erano tanti scherzi, tanti, no? Questi meme, no? Che per esempio c'è la fresco, no? Quello famoso dove c'è Adamo e il Dio, no? Che si tocca, no? Però uno gli passa la mucchina, no? Per esempio, no? Quindi hanno creato tante di queste cose. Sì, sì. Ecco, comunque guarda, ti dico, possiamo dire che è un anno, metterei la rinuncia, la rinuncia, anche direi forse capire chi sono le persone che vuoi vedere e le persone che non vuoi vedere, Certo, hai ragione, assolutamente. Quindi magari se vedo una persona, l'abbraccio e ci abbracciamo, io da poco ho rivisto una una mia studentessa, non ci vedevamo da tanto tempo e ci siamo abbracciati da Genisa Dumanis, da una volta, anche se non facciamo più lezione, eccetera, eccetera. Quindi non sto dirlo, ti capisci? E ci siamo abbracciati. Non ci siamo abbracciati, certamente, perché, vabbè, tanto in Russia noi è un grande problema, no? Però, abbracciarsi, dai. Abbracciarsi, si può, si può. Sì, assolutamente. E poi, capito, nelle relazioni anche familiari, per molti è stato un anno difficile perché non erano stati preparati a essere sempre sempre ripeto, porque non eranocio lividiva soltanto tempo in casa. Abbiamo perso l'abitudine di passare tutto questo tempo insieme chiusi dentro casa, diciamo, negli spazi molto limitati, che la casa è questa, la camera è questa. Aspetta, noi non abbiamo mai avuto il nebbolo, noi viviamo già in questo settore. Non ti stai a continuare l'istituto, probabilmente. Vierà la vostra vita. Tu devi andare a lavorare e tornare a vivere. Giusto, e per questo dico che abbiamo perso questa abitudine di stare sempre insieme, uno fianco all'altro. Io non l'ho mai avuta, diciamo. Però ecco, sono contento che a me è andata bene, nel senso che anche con un bambino piccolo in casa ho potuto passare, posso passare molto tempo con lui e giocare. Certo, è un vantaggio sicuramente. Dicembre è un mese che io adoro, bellissimo. non c'è questa atmosfera sempre delle feste eccetera eccetera, quindi un po' la fine dell'anno. Anche l'attesa di qualcosa di buono che arriverà, sì? Sì. Poi, per finire dal mio punto di vista ti dico, noi siamo fortunati io e te che il nostro lavoro non ha avuto, come dire, effetti negativi, non ha avuto effetti negativi dalla pandemia. Anzi, posso dire che molte persone anzi studiano di più. Certo. Tu come la vedi? Per te invece è stato più difficile o più semplice quest'anno? Ma, guarda, non lo so, in realtà non ci avevo ancora pensato bene e comunque dicembre per me è sempre anche un po' quel momento di fare un bilancio, mi piace molto questa espressione, il bilancio di quest'anno, di com'è stato, com'è andato. Quindi devo ragionare ancora un pochino perché sicuramente ha portato anche a me tanti cambiamenti e adesso ho tanti ragionamenti in testa per valutare, insomma, effetti positivi e negativi e magari riflettere di più del futuro, insomma, perché il 2020 ci ha fatto vedere che non puoi sempre programmare tutto e anche se programmi qualcosa non è detto che andrà proprio così. Quindi… Non so, direi anche che non puoi non programmare. Ma dall'altra parte, sì, hai ragione, non puoi non programmare, però magari adesso devi avere un alto livello di programmazione per… Altissimo, altissimo, altissimo. E faccio veramente augurato, di… … Allora, cap'è… … … … … … … … 6 mesi, io ho detto anche a te, 6 mesi praticamente, e ogni settembre si incontriamo. Da? Da, noi siamo. Con i nostri amici. Io credo, che comunque... No, noi, ovviamente, non sono amici con tutti, perché noi non conosciamo. No, non conosciamo. No, non conosciamo. Ma posso dire, che ci dicono, che non si tratta di internet, io non lo so, non lo so. Io sento, che i nostri ascolti, e hanno il suo credo. Può che vogliono qualcosa di dire, ma non è possibile fare un livello di 20 persone. E per questo, magari è difficile. Ma, io credo, che anche adesso, non ho capito, non ho capito, non ho capito, che non ho capito, che non ho capito. E adesso, non ho capito, non ho capito. E non ho capito. sicuramente. E tu, Fede, è davvero molto bello. E anche te, e tutti i nostri ascolti, perché, veramente, già dopo un anno, ogni settimana, e noi con i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, che si ringrazano, si si ringrazano, si si ringrazano, si si ringrazano. E questo è vero. Non appreso, questo è vero, è una sensazione fantastica. E comunque, non ti senti solo. E' vero. Non ti senti solo. E così, abbiamo conosciuto tante persone. Abbiamo conosciuto, un po' meglio, noi stessi, no? E' fantastico, bellissimo. Quindi, ringrazio veramente tutti. Possiamo anche dire, призnare, la nostra comanda, da, Iro, che, se inizio non c'erano, adesso, ci sono un po' più e che ci racconti, in questo caso. E' vero. E' vero, perché voglio qualcosa di interessante. Non voglio qualcosa di interessante. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. in fondo. E' vero. E' vero, sì. E' vero. assolutamente in questo caso non può dire molto, è difficile. perchè, in realtà, non possiamo sempre parlare del cappuccino e del cornetto con la Nutella possiamo semplicemente dire... Guarda, la cosa che veramente mi preme, significa che per me è molto importante, è che gli studenti usino la lingua, perché no? Dice Olya Olya! In realtà vorrei che gli studenti proprio usassero anche l'italiano per esprimere le emozioni che hanno, questo è bellissimo, eh! Certo! E guarda, intanto... Proviamo magari un pochettino a svelare il segreto, almeno un pochino, no? Perché hai detto che in diretta su Instagram non abbiamo la possibilità di vedere tutti quanti, ma lo vogliamo provare a fare, eh! Quindi magari un pochettino lo diciamo? Eh, però non dirlo adesso, lo diciamo la prossima volta... Lo diciamo la prossima volta un'idea che abbiamo, quindi... Sì, quindi la prossima volta ci vediamo qui su Tiramisu, nella sette ospiti miei... La prossima volta... Andiamo alla fede! Ah, кстати, sai, magari, con il mio internet non tiramisu, ma tarmazù, eh! Di tipo... Sì, il mio, mi ricordo, è�... Di tipo, secondo te... Di tipo il mio racconto... Di tipo, il mio racconto... Di tipo, il mio racconto, non tiramisu, però il migliorno troppo, sicuro come il migliorno da… Impele, però adesso la vedo posso dire di un pochettino. Sì, io gli ho guardo nel senso da ti da Ma se ti senti come un pochettino, come un pochettino… comunque la prossima volta discutiamo le feste basta parliamo di Natale e ci divertiamo e poi sveleremo la nostra piccola sorpresa per i nostri amici la nostra sorpresa per i nostri amici per voi così avremo la possibilità di comunicare tutti però ne parleremo l'altra volta al prossimo sabato quindi un bacio a tutti grazie che ci siete sempre stiamo sempre bene a casa tua grazie sempre benvenuti sono sempre molto contenta grazie a tutti grazie per essere venuti Federico ti ringrazio tanto fai qualcosa alla prossima tutti da Federico sabato prossimo ciao 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 un bacione ciao ciao a tutti ragazzi grazie mille alla prossima e ci vediamo sabato prossimo vi aspettiamo ciao buona giornata buona serata ciao a tutti ciao a tutti